Pasta all'italiano con la vodka russa. Alla, Yakutska! Abbiamo dato una ottima pizza all'Ustnera. Ustnera è un luogo che va ricercato sulla mamma. Perché questa pizza è molto buona per essere fatta qui. Poi l'Azzurro ha creato una pasta panna e salmone. La cosa che è più semplice da fare in questo luogo dove più o meno non c'è niente. Andare a comprare è un po' fare un cruciverba e vedere un po' cosa viene fuori. Poi dopo tiri le somme. Quindi abbiamo fatto questa pizza che è venuta buona. L'Azzurro ha fatto una pasta buona. Soltanto che qui funziona così. Gli uomini bevono, la donna guarda. E gli uomini iniziano a bere prima di mangiare. Per cui sono già bello al ticcio. Loro... ... 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